Sempre in linea, eh, Rick? Sto lavorando. Sentite, cara, voi siete una pittrice senza lavoro, io sono un pittore senza lavoro. Che ne direste se ci unissimo insieme per andare a dipingere all'aria aperta? Andateci, ma attenta alle correnti d'aria. Farete tardi ad andare al diavolo. Pare di sì. Sei contento? Abbastanza. Sei cambiato. Adesso, quando disegni con me, non fai che disegnare. Rick! 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 Sì, vengo! Corri, sbrigati! È per questa che sei cambiato. Ssss, vieni qui, sta buona.